ciao a tutti i fan e a tutti gli amici della pagina dell'ortodio è un po che non ci sentiamo lo so scusate dovevamo fare la settima puntata del ciclo cambia vita dove vi volevo parlare della frutta invece della frutta ve ne parlerò prossimamente oggi vi racconterò che ne so salvato orto dio eccomi qua ho fatto un bruttissimo incidente con la mia macchina a proposito di a proposito di investimenti intelligenti avevamo parlato nei primi tre filmati di impianto solare termico impianto fotovoltaico e auto elettrica e forse molti di voi si erano chiesti se l'auto elettrica fosse veramente un buon investimento o no io ero sicuro che la mia prima auto elettrica fosse stato un buon investimento perché mi aveva fatto viaggiare per più di otto anni e questa seconda va lo sembrava ma non ero così sicuro perché l'avevo appena comprato invece ho avuto la conferma perché mi ha salvato la vita quindi sì 9 mila euro per pagarla sono stati tanti ma cose della vita in confronto a 9 mila euro mi ha salvato la vita questa cara macchinetta perché non stavo guidando io quando abbiamo fatto l'incidente io stavo al posto del passeggero il guidatore ha avuto un colpo di sonno e siamo andati addosso a un platano a un platano grosso così proprio dal mio lato proprio dal mio lato in genere addosso ai platani grossi così si muore infatti la salaria lì 2 ci sono i platani che non c'è il guardrail ci sono tutte croci e mazzi di fiori però oltre che noi avevamo le cinture gli airbag le ottime cinture d'airbag della macchina ci aveva avuto un altro culo pazzesco che le macchine elettriche hanno la ricarica automatica e questa macchina nello specifico aveva un freno motore fortissimo tutte le volte tu non dovevi frenare praticamente mai per frenare bastava che lasciavi un po l'acceleratore perché se anche lo lasciavi tutto l'acceleratore frenava tantissimo quindi il momento che col colpo di sonno la persona ha lasciato il piede dall'acceleratore la macchina da sola ha frenato tantissimo e quindi da non lo so 70 80 90 quanto potevamo stare l'impatto è stato a meno di 50 all'ora sarà stato a 40 e qualcosa all'ora e questo ci ha salvato la vita infatti non ci siamo proprio accartocciati addosso all'albero siamo rimbalzati dall'altra parte e per fortuna c'era il guardrail e la macchina ha subito chiamato i soccorsi da sola è partita la voce ma vi è successo qualcosa avete bisogno di soccorsi sono arrivati subito i pompieri che è elettrica questa mettiamola in sicurezza e niente mi so salvato mi so fratturato lo sterno devo stare a riposo un po di giorni ho avuto un colpo di frusta al collo un po di problemini un dolore alla mano al ginocchio qualche stupitaggine però sto bene sono vivo per un incidente dove sarei potuto morire grazie al freno motore di questa mitica macchinetta elettrica che ora non ve la faccio vedere come è diventata però immaginate per cui la macchina non c'è più ecco no per dire questo era il cerchio per dire questo era il cerchio non vi faccio vedere il resto dell'impatto sennò vi spaventate però io eccomi qua come un fringuello però anche se non parliamo della frutta io volevo parlare anche oggi di qualcosa non solo raccontare il mio episodio e perché ero mancato anche perché ho dato l'ennesimo esame all'università ho dato un esame di economia dello sviluppo e volevo parlare di due concetti molto importante il capitale umano il capitale sociale per chi conosce un po marx quando parlava di capitale capitale fisico era un po le macchine da lavoro i terreni tutte le cose che avevano gli industriali che avevano appunto i capitalisti che a differenza dei proletari che invece erano l'unico l'unica l'unica proprietà che ci aveva erano i loro figli e avevano del capitale del capitale fisico oltre al capitale fisico sono stati sviluppati appunto in economia di concetti diversi tipo il capitale umano il capitale umano sono le conoscenze che ognuno di noi ha tutte le cose che abbiamo studiato tutte le cose che abbiamo potuto studiare sia alle scuole alle varie scuole di specializzazione se le abbiamo fatte o sul lavoro tutte le volte che ci hanno fatto fare un corso di specializzazione qualsiasi corso per migliorarsi sul lavoro beh ci sono tanti modi per studiare avete visto io mi faccio il corso per i funghi poi magari un giorno farò il corso per diventare micologo si può studiare si può studiare in mille modi c'è un sacco di gente che un sacco di in un sacco di modi diversi impara lingue diverse io adesso sempre per laurearmi dovrò imparare meglio l'inglese imparare lo spagnolo e aumentare il proprio capitale umano fa sì che persone simili in simili condizioni a parità di altri fattori più è alto il tuo capitale umano più è facile che trovi dei lavori ben retribuiti se andrai a lavorare sotto padrone o che il tuo lavoro ti faccia guadagnare se farai dei lavori diciamo da solo come come libero professionista quindi aumentare il proprio capitale umano è importantissimo soprattutto in un paese dove come l'italia dove c'è dove per fortuna c'è la scuola pubblica ma la scuola pubblica c'ha tante lacune c'ha tante lacune e non solo la scuola pubblica almeno a leggere a scrivere te lo dovrebbe insegnare ma tanta gente esce fuori dalla scuola che non ha seguito bene non ha studiato bene non sa nemmeno leggere e scrivere ecco seguire la scuola bene andare all'università fare altre scuole io mi sto laureando adesso mi manca poco e mi laureo questa è una cosa importante perché un domani che c'è una laurea un domani che conosci una lingua in più è più facile che un'azienda ti assume è più facile che hai possibilità di crearti un nuovo lavoro è più facile spostarti all'estero e cercare una nuova vita quindi una cosa importante appunto è sviluppare il proprio capitale umano studiando se hai delle scuole gratuite dei corsi gratuiti bene falli se no spendi un po anche i tuoi soldi vedi vedi come fai degli investimenti oculati perché investire su se stessi non è mai sbagliato investire sul proprio apprendimento sul proprio miglioramento giustamente un qualsiasi operaio qualificato viene pagato più di qualsiasi operaio meno qualificato o non qualificato al mondo funziona così e ci si può specializzare su così tante cose ci sono così tante cose interessanti così tanti rami nel mondo non solo lavorativi che non sviluppare il proprio capitale umano è da stupidi quindi studiate fate corsi informatevi e parlate con altre persone e a proposito di parlare con altre persone vorrei vorrei parlare del secondo concetto che è il concetto del capitale sociale ecco su quello anch'io penso che mi dovrei impegnare di più perché non c'ho un gran anche come capitale sociale il capitale sociale sarebbe la rete di relazioni che abbiamo le relazioni di persone che conosciamo anche la rete di amicizie la rete anche familiare volendo perché è ovvio che se io torno a casa e mi devo cucinare da solo c'erò meno rendimento piuttosto che se torno a casa e c'è la mia compagna o il mio compagno o mi madre che mi ha già cucinato da mangiare quindi la rete degli affetti delle persone che si conoscono lavorativamente per chi studia diciamo accademicamente ti aiuta per qualsiasi lavoro devi fare senza arrivare al discorso della diciamo il discorso sbagliato che soprattutto in italia c'è del far lavorare l'amico anche se non è capace non arriviamo a parlare di questo però in generale ovviamente io ciò che fa con le persone che conosco piuttosto che quelle persone che non conosco quindi più la tua rete di relazioni è grande più quando c'erai bisogno di qualsiasi cosa e quando anche un tuo qualsiasi progetto sarà più facile mettere in mezzo altre persone se già conosci altre persone quindi un'altra cosa molto importante da sviluppare per l'appunto è il proprio capitale sociale e quindi le relazioni che si hanno stringere relazioni forti con varie persone e anche questo a parità di fattori più una persona ha un forte capitale sociale più sarà facile che renderà bene nell'ambito lavorativo e in generale avrà una vita più facile e più soddisfacente questo concetto ho cercato di spiegarvelo in maniera abbastanza semplice era un concetto appunto dell'ultimo esame che ho dato economia dello sviluppo microeconomia e finanza etica si parlava proprio di capitale umano e capitale sociale e perché sto studiando all'università per aumentare il mio capitale umano per aumentare il mio capitale umano così un domani sia se rimango all'ortodio sia se vado all'estero c'è una laurea e una laurea vale qualcosa piuttosto di avere solo il diploma ad esempio io penso che vi saluto perché sennò questo filmato diventa troppo lungo la frutta e il resto ve lo farò vedere un altro giorno vi saluto su questo su questo quasi tramonto e su questo bellissimo cespuglio di rosmarino appena fiorito con cui preparo per gli ospiti che mi vengono a trovare le mie famose patate ripassate in padella uno dei miei piatti più conosciuti e niente sono ancora vivo sono andato addosso a un platano e sono ancora vivo platano zero stefano uno vabbè mo sto senza macchina perché è distrutta spero di riuscire ai soldi per rifarmela sennò probabilmente farò una colletta e vi metterò in mezzo a voi vi chiederò un euro per uno tanto cominciate ad essere tanti cari miei fan e niente vi saluto buona serata buone cose alla prossima peace and love